C'è un giorno e un'ora nel destino della sanità terramana, il giorno è il 2 di ottobre, l'ora è quella delle 7 di sera, quando nella sala consigliare del comune entreranno per partecipare al consiglio comunale straordinario convocato ad hoc sia il governatore della regione Abruzzo, D'Alfonso, sia l'assessore alla sanità Paolucci, che hanno accettato l'invito del sindaco. Sul tavolo delle discussioni una serie di problemi, a cominciare da quello più urgente. La ASL unica, noi abbiamo il comitato di istituto dei sindaci che ha già fatto un incontro con l'assessore, vogliamo capire se in Abruzzo ci sarà una ASL unica, 4 ASL, 2 ASL, è importante perché io ritengo che per quanto riguarda Terramo perlomeno mantenere la governance, o meglio mantenere le istituzioni, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo è fondamentale per il nostro territorio, anche in un discorso un po' più generale, che ci vede perdere la prefettura, che ci vede perdere la questura, che ci vede perdere il comando provinciale dei vigili. Non meno importante il secondo tema all'ordine del giorno, quello dell'ospedale unico, che si pone sempre più come una sfida irrinunciabile per una sanità regionale alle prese con problemi di bilancio e con sempre minori finanziamenti statali. I tagli nel 2015, fra il 2015 e il 2013, i tagli alla sanità, Terramana sono, a tutta la sanità ma, e quindi anche a quella Terramana, sono importanti. Si parla di diversi milioni di euro a fronte di una spesa sanitaria che cresce, soprattutto per i farmaci, per i farmaci oncologici, per i farmaci dell'epatite C. Saremo in grado ancora di garantire sanità al nostro territorio, stando il fatto che si riducono i trasferimenti e aumentano i costi, ed è un secondo argomento importante che va visto e va verificato, perché siamo certi che correre così verso questo discorso, di uscire anche dal commissariamento, poi non porti dei danni da un punto di vista della garanzia della sanità. Tutte domande da porre ai governanti regionali, così come quelle apparentemente meno importanti, ma ugualmente vitali, per il territorio locale, su altre ventilate riforme. Si parla già del fatto che la neurochirurgia la prende l'Aquila a scapito di Terramo, questo non può essere. Si parla già di taglia alle chirurgie, Terramo ha 5 chirurgie, l'Aquila cena 9, se Terramo deve perdere qualche chirurgia, l'Aquila che fa? L'Aquila, ma piuttosto pescara, piuttosto che chieti, considerando che Terramo non ha una sanità privata. Il personale, qui si continua a avere, ci sono carenze importanti di personale, anche questo, un altro argomento, i tempi determinati, che vogliamo fare in attesa di fare i concorsi dei tempi determinati, quindi tutta una serie di quesite e di domande, alle quali sono certo l'assessore regionale e il presidente ci daranno risposte.